Buongiorno. 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 Buonasera. 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 Arrivederci. 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 Arrivederla. Arrivederci. 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 Grazie mille sì no scusi per favore prego 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 permesso 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 va bene va bene non capisco l'italiano non capisco l'italiano dov'è 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 prendo questo prendo questo prendo questo quanto costa quanto costa quanto costa non capisco non capisco non capisco non capisco per l'italiano per l'italiano per l'italiano per l'italiano per